Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. E non si sa neanche in dolà che si è e in dolà che si va. Si fa bene, non si arriva a spiegarsi e che gli altri non arriva a capire. Insomma, per forti le persone si ingrume tante tante cose e per dentro la persona è sempre più ueide, ciondare. Attenzione a non colare in torno di queste contraddizioni. Buone giornate e buone vite!